Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Concludiamo il nostro escursus, la nostra esplorazione nella filosofia di vita dell'antichità e nella filosofia dell'antichità come insegnamento di vita con l'ispiratore di questo stesso percorso, ovvero il già citato storico della filosofia e filosofo francese Pierre Hadot. Abbiamo anche citato il suo splendido libro Esercizi spirituali e filosofia antica da cui abbiamo tratto le citazioni di questi ultimi giorni e oggi vorrei completare questo mini percorso con il senso del lavoro che si fa con gli esercizi spirituali. Abbiamo iniziato con Socrate che ha stabilito i fondamenti della necessità del lavoro su di sé e ha stabilito soprattutto, definito le priorità. L'evoluzione di se stessi, il conoscere se stessi, il predominio della propria vita interiore, della cura della propria anima. Perché questo? Perché solo questo rende l'uomo felice. Oggi vorrei sottolineare che cosa avviene, qual è il percorso concreto che si fa e qual è soprattutto il traguardo concreto che si raggiunge. Il traguardo che ci viene evidenziato molto bene da Pierre Hadot è quello della conversione, un termine molto equivoco, perché oggi di questo termine abbiamo due significati opposti. uno puramente neutro, materialistico, riduzionista e l'altro quasi messianico e comunque contornato di sfumature di significato fosche determinate dalla storia, dalle testimonianze storiche, la conversione forzata a opera dei missionari sulle popolazioni indigene, come per esempio del Sud America e del Nord America. Da questo punto di vista la conversione a spiriti laici come i nostri appare sempre un po' oscura, legata appunto a una sorta di messianesimo fosco e terribile. Dall'altra parte invece abbiamo una visione della conversione, come dicevamo, puramente neutra. Si converte una moneta o si converte un file. Quando convertiamo un file da un formato a un altro, certamente ne cambiamo l'identità, ne cambiamo lo stato, ma abbiamo semplicemente delle differenze quantitative. Per esempio un file convertito da un formato .wav in un formato mp3 perde un pochino di qualità, ma allo stesso tempo ci fa risparmiare spazio, pesa meno del file precedente la conversione. È più qualcosa che riguarda la quantità che la qualità, anche se si parla di qualità, ma è sempre una qualità, diciamo così, superficiale. La conversione di un file da un formato a un altro non va a interferire con la natura di quel file. Sempre di 0.1, di codici binari e di linguaggio digitale si sta parlando. Che sia compresso in un modo o in un altro, la natura resta invariata. E così vale ancora di più per quanto riguarda la moneta. La conversione tra euro e dollaro dipende unicamente dai valori di mercato e quindi meramente da una quantità, da misure quantitative. Certo, la qualità della vita di chi investe nell'una o nell'altra moneta che ha successo o meno successo cambia, ma la qualità di questa vita dipende sempre dalla quantità di denaro che si ha nelle tasche. La natura intrinseca del capitalismo, così come la natura intrinseca del valore monetario, non cambia con la conversione. Ho fatto questi due esempi per restituire il significato che in genere oggi anche inconsciamente attribuiamo al termine di conversione. La conversione che si ha invece con gli esercizi spirituali è di tutt'altra natura e va proprio a incidere sulla natura stessa dell'individuo che si converte, che attua questo percorso di conversione. Non a caso spesso la traduzione di conversione è quella del greco metastrofè, che significa proprio una conversione radicale. un radicale stravolgimento, rivolgimento della propria vita, un cambiamento fondamentale, una trasformazione radicale fondamentale, un punto di svolta, potremmo anche definirlo. Questo è il senso, ci dice Pieradò, degli esercizi spirituali, questo è il senso della filosofia nel suo valore più profondo e questo, aggiungo, è il senso del percorso che facciamo. Quando scegliamo il percorso del cambiamento di noi stessi, del miglioramento di noi stessi, non cambia soltanto delle condizioni quantitative, non cambia soltanto un modo di vedere le cose, non cambia soltanto un modo di utilizzare certi strumenti e di valutare certi elementi, non cambia soltanto il modo di fare certe scelte, cambia il modo di essere. Cambia il modo di essere e dal cambiamento del modo di essere cambia il modo di esistere. La conversione, intesa in questo senso, che non è né quello religioso canonico, né quello materialistico canonico, è una trasformazione che sconvolge la nostra vita intera. Dice proprio così Pieradò. L'esercizio spirituale, la scoperta soprattutto della vera vita che avviene attraverso l'esercizio spirituale, direbbero gli induisti, la rottura del velo della maia, dell'illusione, che ci copriva la vera realtà, che è la realtà spirituale, la realtà interiore, da cui possiamo individuare le strade, i percorsi che ci portano verso la vera vita, la vera esistenza e che ci permettono di imboccarli, è un evento che trasforma completamente la nostra vita. Non si può più tornare indietro. Se si sceglie la strada del cambiamento, in questo senso, del cambiamento verso un nuovo modo di essere, del cambiamento in un nuovo orizzonte, del cambiamento in un nuovo paradigma, ciò è quello che sconvolge la vita intera. Dice Pieradò, è ciò che cambia l'essere di colui che la compie. Lo fa passare dallo stato di una vita inautentica, oscurata dall'incoscienza, rosa dalle preoccupazioni, allo stato di una vita autentica, dove l'individuo raggiunge la coscienza di sé, la visione esatta del mondo, la pace e la libertà interiori. È un'estasi, vorrei aggiungere, cioè qualcosa che si manifesta come una esperienza totalmente altra, che ci proviene da un mondo che non pensavamo neppure esistesse, ma allo stesso tempo è un enstasis, cioè un'esperienza di illuminazione interiore che proviene da noi stessi. È una conquista del nostro mondo interiore che ci permette di espanderci nel nuovo mondo esteriore, quello che abbiamo chiamato, un po' di tempo fa, il nostro prossimo mondo. E qual è l'ulteriore differenza tra questa conversione, metastrofe, e la conversione convenzionale religiosa e la conversione neutra materialistica? È, ancora una volta, la libertà della nostra scelta. Nessuno ci obbliga a questa conversione, come invece, ahi noi, le religioni troppo spesso ci hanno abituato. E non è neppure una cosa così, che c'è e non cambia niente, sia che la scegliamo, sia che non la scegliamo, come nella conversione materialistica o neutromeccanicistica. La libertà di scelta, di questa conversione, la libertà di scegliere una nuova strada, la libertà, diceva Sant'Agostino, di morire alla morte e vivere alla vita, la libertà di cambiare strada, la libertà di cambiare vita, la libertà di essere ciò che vogliamo veramente essere e intraprendere il percorso, di diventarlo. Bisogna essere consapevoli che questa è una scelta radicale, è una scelta, però, molto fattibile, è una scelta pratica, concreta, che non ci deve spaventare, anche se è radicale, perché è la radicalità del cambiamento di visione, è la radicalità della trasformazione interiore, è la radicalità del rinascere, è la radicalità del passare attraverso le differenti età, è la radicalità della maturazione di noi stessi. Io personalmente posso testimoniare che questa radicalità di scelta, che ho fatto probabilmente nonostante me stesso, non si pone più come problema, ma come realtà. Non ci si pone più il problema, io non mi pongo più il problema se tornare indietro, se abbandonare questa strada. È diventata la mia strada, è diventata la mia vita, e per quanto mi riguarda è una vita molto migliore, ma di gran lunga migliore, immensamente migliore, infinitamente migliore, della mia vita precedente, prima di quando con consapevolezza ho imboccato questa strada, ormai quasi 15 anni fa. E allora vi invito a pensare al senso gioioso della conversione, ma anche allo stesso tempo al senso radicale, e ovviamente a fare e continuare a fare la vostra scelta. E vi lascio con queste parole di Pierre Hadot che ribadisce il significato di questo modo di essere filosofi, cioè di vivere in modo filosofico. Ho sempre inteso la filosofia come una metamorfosi totale della maniera di vedere il mondo e di essere nel mondo. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.